Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, parliamo di questa trattativa ancora Juventus e Barcellona perché anche se siamo al 18 di maggio e il campionato non è terminato per via del Covid visto e considerata l'emergenza comunque si è innescata questa reazione dei club sul ragionamento da fare in ambito mercato, mercato di scambi perché ovviamente il periodo ci porta a dover ragionare in questa maniera e quindi far plusvalenze anche con gli scambi. Sappiamo benissimo che Pianici è il primo indiziato a partire per la Juventus per tutta una serie di ragioni da quelle economiche a quelle anagrafiche e quindi c'è questo dialogo fito col Barcellona confermato peraltro da giornalisti di assoluto spessore e autorità. In questo caso io vi menziono Romeo Agresti che massima stima nei suoi confronti e lo reputo molto molto autorevole, molto vicino all'ambiente Juve, mi fido ciecamente di lui. C'è questo dialogo, non c'è una trattativa ben avviata nel senso che non è che stiamo smussando quelli che sono i dettagli di un'impostazione già pronta, sta dialogando su tutti gli incastri che si possono fare eventualmente in un mercato di scambi. È uscito il nome di Arthur che interessa tanto alla Juve ma non solo, ieri ne è uscito un altro non dalla bocca di Romeo Agresti, attenzione. È uscito da un quotidiano sportivo spagnolo questa trattativa qua, ovvero il Barça da Semedo alla Juve e la Juventus per prendere Semedo dovrebbe dare Pjanic, De Sciuio e 25 milioni. Questa è la trattativa. Ora io mi chiedo ma siamo alla Mondial Casa? Cioè cos'è? Un set di pentole più tutti gli accessori la bici con il cambio Shimano, il forno, altre cose. Praticamente tu con Mondial Casa compravi un set di pentole e ti regalavano mezza casa, dalla bicicletta al forno, al frigorifero a un sacco di altre cose, al giradischi e un sacco di altre puttanate simili. Ecco in questo caso mi sembra una trattativa un po' Mondial Casa. Cioè tu mi dai un giocatore che è Semedo io ti devo dare Pjanic, ti devo dare De Sciuio e ti devo dare pure 25 milioni. Quindi ma che valore ha Semedo? Ma stiamo impazzendo? Cosa? Questa è? È follia allo stato puro. Cioè Semedo ha un valore quindi di 100 milioni circa perché se ovviamente io valuto 60 milioni di Pjanic, 20 esagerando, ok? De Sciuio, però ci metto altri 25 milioni, siamo giù di lì, ecco. Non è che ci scostiamo tanto di quella cifra che vi ho sparato. Quindi Semedo ha un valore da 105 milioni. Io mi chiedo come faccio un quotidiano a scrivere una tale puttanata. Ok? Poi la cosa da risalto perché? Perché quando ci sono queste notizie che fanno, suscitano scalpore, la gente ci casca e inizia a condividerla in maniera esagerata. Soprattutto quelle persone che magari mal sopportano l'operato di paratici e paratici in generale e cercano di buttare i merda addosso, rafforzano quella che è la loro idea a suon di fake news. Fake news che non hanno altro che lo scopo ovviamente di monetizzare dai click e da tutti i sistemi di monetizzazione integrati all'interno di siti di calcio mercato e via discorrendo. Questo è il danno effettivo del calcio mercato. Io mi faccio delle grosse risate, però cari miei, se cascate a queste fake news di mercato, il problema non è di chi le scrive ma è anche vostro. Quindi attenzione, dovete cercare di ricreare quella che potrebbe essere la trattativa tra Juventus e Barcellona, una roba così non conviene. A meno che non abbiamo dei sabotatori del Barcellona all'interno del club, una trattativa simile se si fa è da sparare paratici o da impalare in piazza Castello. Non scherizziamo. Con tutto il rispetto per essere meno che un buon giocatore, però dargli due giocatori, più 25 milioni, più uno yacht, più un paio di mutande Calvin Klein, più altre cose, anche no, anche no, anche meno, un po' too much questa trattativa, un po' too much. Però, tornando a noi, parliamo anche di un altro episodio curioso che è capitato in Lega. In questo momento si sta discutendo sulla ripresa del campionato e il campionato probabilmente riprenderà, però c'è la discussione sul protocollo che è stato redatto. Il protocollo cosa contiene essenzialmente? Contiene tutte quelle che sono le disposizioni a livello di sicurezza in ambito sanitario che tutti i club di Serie A devono rispettare per fare in modo che ovviamente tutto fili liscio, non ci siano contagi e via discorrendo. Ecco, questo protocollo è stato redatto dal comitato tecnico-scientifico, mi pare, a quattro mani con la Lega Calcio in base ovviamente a quelle che sono le possibilità di tutti i club, quindi un protocollo fattibile per tutti i club, anche quelli che sono meno adottati di infrastrutture rispetto alla Juve, perché noi siamo un po' l'esempio virtuoso e non è una novità, però a quanto pare di questo protocollo lo stanno scrivendo, lo stanno perfezionando e Lotito ha chiesto di prendere visione prima che esca appunto lo stesso, perché vuole fare un check, vuole controllare, vuole dire la sua. Carino questo siparietto qua perché ovviamente Lotito si improvvisa anche medico, ormai non basta il potere che ha assunto in Lega Calcio, in abito decisionale di influenza anche per chi sta all'interno, parlo anche degli altri presidenti, ma è veramente così, è un personaggio, è uno che sa tutto, è un luminare, è un dottor house, è dottor house, Lotito è dottor house, quindi sa tutto, lui sa capire il protocollo e sa anche correggerlo nel caso trovasse qualche errorino qua e là, è giusto per... ovunque a parte tutto, smontata questa fake news di Semedo, ci siamo, è una cazzata, anche Romeo Agresti a proposito ha scritto oggi su gol.com che questa è la trattativa che non esiste, il dialogo c'è tra Juventus e Barcellona, ma la Juve ha rifiutato Rakitic, quella notizia è falsa, quella là di Semedo a lui non gli risulta e adesso andremo un po' a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, mi auguro che ci siano delle scelte chiare per quanto riguarda la Serie A, insomma, io cercherò di tenervi aggiornati qua sul mio canale, mi raccomando iscrivetevi, lasciate like e nulla, ci sentiamo presto, man mano crescono le novità, non ci sarà un orario ben preciso sulla pubblicazione dei miei video, però capite bene che quando c'è la notizia boom, correrò subito a fare il video, tanto dove cazzo devo andare, sto a casa, ciao a tutti e sempre fino alla fine, forza Juve!